Di mettersi o no? E questo è il dilemma dei consiglieri della coalizione di centrodestra. Il parlamentare democratico Umberto del Basso De Caro, ai microfoni di Canale 58, si è detto convinto che non ci sono le condizioni, anzi che un'operazione del genere consegnerebbe una nuova e più vigorosa vittoria al neosindaco Enrico Franza. E in effetti pare che dalle continue riunioni fra gli eletti della minoranza non emerga una posizione univoca. Se questo è il loro nodo da sciogliere, quello di Franza è legato più stretto. Sono trascorsi 11 giorni dall'esito elettorale e massimo entro lunedì 24 giugno deve essere convocato il primo consiglio comunale con all'ordine del giorno, il giuramento del sindaco, la nomina della commissione elettorale, dei revisori dei conti e render pubblica la composizione della giunta. E' qui che emergono i problemi, perché se da un lato c'è chi consiglia e propende per un'aggiunta tecnica come ad esempio i 5 Stelle una soluzione tortuosa, poiché bisognerebbe passare raggi X la storia professionale di ogni eventuale assessore e badare bene alla sua neutralità ideologica, dall'altro lato c'è chi invece consiglia e propende per una scelta politica e per lo più di affiancarsi delle persone che sin dall'inizio hanno dato il loro appoggio, dunque lasciar perdere probabili transfughi. Franza come ne uscirà? Ha ancora qualche giorno di tempo, per la precisione entro il 3 luglio i giochi dovrebbero essere fatti. La città non aspetta e soprattutto chi ha sostenuto una candidatura definita di cambiamento. Franza sta programmando decisioni di ordinare amministrazione, abbinandole alle attività istituzionali e di rappresentanza. Ieri le presentazioni in casa Biogem, oggi la prima uscita nel capoluogo, in prefettura.